Cari amici, avrete sentito già questa espressione anglofona gatekeeping, gatekeeper associata spesso al concetto di opposizione controllata ovvero di che cosa si tratta? Si tratta di organizzazioni, partiti, personaggi pubblici, eccetera che assumono delle posizioni contro il sistema e quindi, come posso dire, convogliano un malcontento assorbono un malcontento sociale e lo inglobano ma senza che questo malcontento poi sfoci in qualcosa di pericoloso per il sistema per esempio si è parlato del Movimento 5 Stelle come un tipico esempio di questa strategia politica cioè nel momento in cui una fetta importante della popolazione è furibonda tu crei un partito ad hoc che dice si avete ragione, basta, adesso scateniamo l'inferno adesso apriamo il Parlamento come una scatoletta di tono e poi te li vedi governare insieme agli altri dopo aver preso il tuo voto e quindi praticamente hanno convogliato e depotenziato un malcontento altrimenti pericoloso per il sistema ora, questo purtroppo de facto è quello che stanno facendo Monsignor Viganò, Monsignor Schneider e gli altri tradizionalisti in area tradizional sedevacantista ora, io non so se lo fanno apposta se sono d'accordo oppure se lo fanno involontariamente questo io non posso dirvelo quello che è fattuale è che loro propinandovi questa storia del concilio stanno stornando l'attenzione dall'unica strada operativa perseguibile cioè l'unica cosa che si può fare per liberarsi di Bergoglio e dei suoi sodali è quella di applicare la Universi Dominici Gregis perché? perché la vacanza della sede non è avvenuta a norma del carone 332 perché Benedetto ha rinunciato al ministerium e non al Mons pur citandoli entrambi quindi la persona eletta non ha alcun diritto l'elezione è nulla invalida senza che occorra una dichiarazione a proposito come vedete là c'è un'autostrada pronta per risolvere la questione e invece questi qui continuano a parlarvi del concilio è tutta colpa del concilio ecco c'è qualcosa veramente di malsano in questo io continuo a ricevere delle email di persone che mi vogliono far riflettere su i guasti prodotti dal concilio su quello che ha fatto questo Papa o quell'altro eccetera e io comincio a rifiutare anche diciamo un po' costizito perché io non mi occupo di queste cose io mi occupo di soluzioni operative mi occupo della sede usurpata della sede impedita di Benedetto XVI ma a questo proposito vi voglio leggere un email che ho ricevuto da un lettore che è stato un ufficiale delle forze dell'ordine e vi leggo gentile dottor Cionci quella di Viganò è una vecchia strategia molto abile che ho visto all'opera in Sicilia laddove i mafiosi ottusi ci sono pure quelli alla reina agivano a colpi di clava facendo saltare in aria prefetti magistrati e funzionari coraggiosi con effetti controproducenti i protettori politici di Cosa Nostra in larga parte democristiani hanno utilizzato attenzione hanno utilizzato la strategia di dilatare indefinitivamente il problema mafia nello spazio e nel tempo facendolo apparire sì negativo ma anche facendolo accettare come potentissimo e ineluttabile e quindi facendo passare come marginali ingenue e inutili sul piano generale le iniziative di qualche sia pure ammirevole Don Quixote esattamente quello che succede con i tradizionali sedevacantisti che parlano del sottoscritto di Domino Tella e figuriamoci adesso è arrivato Cionci con la soluzione in mano ma i problemi sono molto più importanti mica ci sono soluzioni alla portata di mano i problemi vengono dal concilio è tutta colpa del concilio sì ho capito è tutta colpa del concilio e allora qual è la soluzione operativa oltre a quella di prendere la macchina del tempo tornare al 62 e dire a Giovanni XXIII no guardi santo padre blocchi i lavori perché noi veniamo dal futuro e abbiamo visto come è andata qual è la soluzione cioè l'unica l'unica cosa che porta una critica al concilio è dire nessun papa è legittimo dalla morte di Pio XII ad oggi benissimo questa è una è una come posso dire una risposta coerente però poi ci dovete dimostrare come è possibile che la chiesa sia sopravvissuta visto che le nomine dei vescovi hanno sempre bisogno dell'approvazione del papa se il papa è morto nel 58 si è interrotta la l'ordinazione regolare di nuovi vescovi quindi manca una gerarchia ecclesiale ecco dove si interrompono i sedevagantisti non riescono a dare una risposta tranne quella quella butade della tesi di Cassiciaco per cui il papa si vede ma non c'è la tesi del Mago Silvano eccetera eccetera ma in ogni caso anche con la tesi di Cassiciaco qual è la risposta operativa la soluzione per togliersi Bergoglio di Torno quale sarebbe non c'è torniamo a quello che ci dice questo lettore l'esistenza e lo strapotere della mafia vengono ricordati di continuo anche mediante commemorazioni ipocrite che non si associano mai 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 a misure concrete e neppure a delle semplici proposte lo scopo profondo degli sceneggiati televisivi tipo quello di Gomorra eccetera eccetera oltre a quello accessorio della foglia di Fico e le conseguenze in termini di sputtanamento internazionale è esattamente questo cioè quello di scoraggiare nella opinione pubblica le istanze di risposte concrete e sostanziali davvero pericolose per la mafia e per i suoi protettori come taluna e letali che sono state sapientemente insabbiate e peggio la mafia della quale vengono abilmente amplificati i fasti esteriori nella realtà assai modesti per i veri capi è cattiva molto cattiva ma anche potentissima e ineluttabile nonostante gli sforzi da un chisciotteschi isolati di Montalbano Cattani eccetera quindi scoraggiatevi cari ragazzi al massimo se proprio ci si vuole molare si può combattere questa guerra ma sappiate che è impossibile vincerla questo è ciò che ci viene inculcato quotidianamente nella mente del pubblico da 30 o 40 anni questo è esattamente Monsignor Viganò Bergoglio è molto cattivo ma è solo l'ultimo di una lunghissima teoria di papi apostati come lui quindi è perfettamente inutile combatterlo perché il problema è molto più grande di Bergoglio stesso viene da lontano bisogna andare a monte non si risolverebbe niente in nessun caso eccetera ecco è la stessa medesima strategia impossibile vincere quindi tutto inutile quindi la parcellizzazione aggiungo io parcipelago tradizionalista eccetera eccetera attenzione perché poi si finisce male come i francescani dell'immacolata i cavalieri di Malta o l'obus dei e come i soliti unacum non si stancano di ricordare poi sono arrivati i cionci e i minutella a rompere le uova nel paniere ricorda questo lettore per questo tanto li vuole senza voi due sarebbe stata una strategia perfetta e vincente come lo è stata e lo è tuttora purtroppo l'altra con molta stima e saluti eccetera avete capito? questa è di fatto io non so quanto intenzionale ma di fatto è esattamente così non so se sia una forma di ipnosi provocata da Bergoglio se sia la potenza d'inganno di cui parla San Paolo se invece siano effettivamente d'accordo se abbiamo fatto accordi sotto banco sappiamo che la San Pio X ha avuto da Bergoglio il permesso di celebrare i matrimoni fare le messe naturalmente in comunione con lui il furbone il furbone l'unica messa antica che ha consentito è quella in comunione con lui quindi di fatto di fatto Monsignor Viganò Monsignor Schneider questi altri tutti quelli che ogni volta tirano in ballo questo concilio lo fa anche il professor Mora io non credo che il professor Mora lo faccia in mala fede perché credo che sia una persona onesta ma trovo completamente surreale il discorso di tirare in ballo il concilio mentre io sto parlando del futuro sto parlando di come uscire da una situazione ecco è come se di fronte a un magistrato antimafia che dice allora guardate il piano per sconfiggere la mafia è questo quest'altro e quest'altro e uno invece di rispondere a tono dice ma è tutta colpa dell'unità d'Italia e del brigantaggio è stata colpa dei Savoia che hanno invaso il regno di Borbone sì d'accordo benissimo l'analisi storica ci sta però allora vi stavo dicendo per colpire la mafia dobbiamo arrestare questo questo e quell'altro capo poi confiscare bene eh no ma è tutta colpa del generale Cialdini che massacrò i briganti nell'ottocento vi rendete conto questa è la strategia dei tradizionalisti inibire ogni tipo di azione costruttiva per liberare la chiesa convogliare il malcontento portando le persone a una sterile inutile mortificante depressiva lamentela sul latte versato piangere sul latte versato eh sì è tutta colpa del concilio siamo governati da apostati la setta conciliare perché Ratzinger era modernista Ratzinger era hegeliano a 25 anni scriveva cose hegeliane poi nel 62 collaborava con Karl Rahner nella stessa rivista eccetera poi Giovanni Paolo II ha baciato il Corano poi Giovanni Paolo II ha fatto Assisi allora tutte queste cose adesso le smonteremo una per una perché veramente ne abbiamo le tasche piene di queste scempiaggini abbiamo già demolito in 4 e 4 8 quella stupidaggine di Benedetto che parlava del nuovo ordine mondiale abbiamo demolito la leggenda nera su Assisi infatti poi Monsignor Viganò mi ha bloccato su Twitter evidentemente avevamo toccato qualche tasto dolente e adesso ci occuperemo anche di Giovanni Paolo II e di questo presunto bacio al Corano e poi smonteremo tutte queste altre balle una dietro l'altra perché non fanno altro che inibire qualsiasi tipo di reazione vedete finché siamo solo io e Domi Nutella a invocare l'applicazione dell'Università di Domenici Gregis il sistema prospera Bergoglio prospera e infatti vi risulta che Monsignor Schneider e Monsignor Viganò siano stati sanzionati canonicamente da Bergoglio non mi pare affatto non mi pare affatto sì Monsignor Viganò è andato a vivere nascosto eccetera ma di fatto qualcuno ha mosso una paglia contro di lui no ripeto io non so se Monsignor Viganò sia d'accordo con Bergoglio o se sia un gatekeeper diciamo in modo spontaneo e inconsapevole neanche mi interessa il punto è che questi tradizionalisti si stanno comportando esattamente come quei democristiani che parlavano male della mafia ma vi portavano ci hanno portato a considerarla come un male ineluttabile e appunto senza alcuna possibilità di vittoria da parte dello Stato quindi pregherei tutti i miei lettori che mi mandano cose sul concilio basta per favore le uniche cose che potete mandarmi sul concilio sono volte a sfatare le leggende nere mandatemi tutto il materiale che volete però su questo su questo versante non ne posso più di sentire sciocchezze su questo quel papa può sconciliare anche perché sono completamente inutili inutili e dannose chi vi parla dei guai del concilio vi sta dicendo ti devi tenere per golio non ci puoi fare niente la chiesa è finita rimani con noi nella nostra elite gnostica sì è gnosi questa cioè è il concetto dell'elitarismo gnostico solo noi siamo i depositari della vera messa eccetera eccetera poi recitata in comunione con Bergoglio o con non si sa chi mistero cari amici spero di esservi stato utile vi aspetto il 23 a Roma e poi presto vi darò altri appuntamenti grazie un caro saluto a tutti dal vostro Andrea Cionci grazie a tutti grazie a tutti